Ah! Oh! Grande! Siamo al mondiale per club! Siamo ufficialmente, almeno ad oggi, al mondiale per club, a meno che non ci siano critiche clamorose, stravolgimenti di fronte da parte di De Laurentiis, che andrà a qualche comitato a dire la Juventus non ci deve andare, quindi per questo ragazzi, eh? Oh! Quanto ci sta! Quanto ci sta! Quanto ci sta! Mamma mia! Come l'è andata! Oh! Una partita bella, 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 ma permettetemi! Ci stava bene insieme anche un bel calzone, un bel calzone napoletano, e facevamo il top! Ma scherzi a parte, iscrizione al canale, like, condivisione, commentate e attivate la campanella per non perdervi altri aggiornamenti video e live, ma ragazzi, ragazzi, i Barcellona contro i Napoli hanno fatto tutte e due una partita, secondo me, strepitosa. Poi ci sono state carenze da una parte o dall'altra e la partita poteva finire, era una partita da tripla, sul 2-1 e il secondo tempo poteva finire 3-2 per i Napoli, 2-2, 3-1 per i Barcellona, 5-1 addirittura per i Barcellona, 4-1, poteva finire in mille modi diversi, è stata una partita, secondo me, bellissima, bellissima, quindi onore al calcio stavolta, al calcio, al Napoli devo dire che manca probabilmente un rigore e se assegnavano quel rigore, se il Napoli avesse segnato quel rigore, forse avremmo parlato di una partita e di un risultato completamente diverso, ma ripeto, me ne frego, perché qui me ne frego, me ne frego perché quando succede alla Juventus tutti a dire, ah, vi lamentate, vi lamentate e ora voglio sentire i napoletani quanto si lamenteranno dell'episodio del probabile rigore del fallo su Ozyman, perché lì c'era un pestone in area, si vede benissimo, hanno fatto vedere da tutte le angolazioni, da tutte le angolazioni sembra rigore, però il VAR non interviene, l'arbitro non vede e ciao, mi dispiace, ragazzi, questo è il calcio, soprattutto questa, Napoli, vi siete resi conto che questa è la UEFA, ovviamente non pensavo che fosse avvantaggiato in una decisione arbitrale di Barcellona, dato è una insieme a Real Madrid e Juventus, dei precursori per la Super League e quindi contraria alla UEFA, però in Napoli ovviamente è stato buttato fuori, secondo me se ci devesse stato un motivo per cui è stato penalizzato per quel calcio di rigore, vogliamo proprio pensare male, perché secondo me la FIFA per il mondiale per club preferisce di gran lunga a livello di appeal una squadra come la Juventus, ma non perché sono juventino, ve lo dico, ve lo dico, perché è così, quante magliette vende il Napoli, quante magliette vende la Juventus, quante squadre conoscono all'estero in Napoli se non in Argentina e quante la Juventus, è un po' diverso, è un po' diverso, quindi diciamo è così, funziona così, il calcio dai, il calcio toglie, ma ripeto stasera non me ne frega nulla perché stasera siamo a festeggiare l'ingresso ufficiale della Juventus al prossimo mondiale per club negli Stati Uniti nel 2025, quindi fra un annetto, ci giocheremo questo mondiale per club, ah che spettacolo, che spettacolo alla faccia di quelli di Napoli e quelli della Lazio, da una parte c'è Calzona, terzo allenatore della stagione, dalla parte della Lazio c'è un Sarri, l'unico uomo della squadra Lazio che ha dato le dimissioni, ha fatto mea colpa, ha preso, ha detto, come hanno fatto tanti grandi allenatori, come anche il grande Marcello Lippi, se il problema sono io, io me ne vado, cioè questo è, questo è, cosa che non fa Massimiliano Allegri, torniamo sempre a parlare di Allegri, ma non voglio dare altro spazio a quel soggetto e quindi mi godo il mio prosecchino alla faccia dei napoletani. Detto questo, noi possiamo andare avanti con il nostro video a commentare un po' la partita, ma della partita c'è veramente poco da dire, ripeto, è stata una partita che mi è piaciuta veramente tanto da guardare, soprattutto il secondo tempo è stato pazzesco, prima parte il secondo tempo gestita completamente dal Napoli, poi fa un paio di cambi a Barcellona, entra Sergi Roberto, va sugli scudi ancora di più Cancelo, che secondo me accidenta quando le volevo mandare via, cioè accanto se volevo mandare via noi dalla Juve, ragazzi Cancelo oggi ci faceva più comodo di pane, più comodo di pane, immaginatevi Cancelo al posto di Kostic, immaginatevi solo questo, a parte uno avrebbe messo Allegri, avrebbe messo Kostic se Mancelo lo metteva di là e quindi stava fuori cambiaso, quindi cambiava poco, però un Cancelo oggi avrebbe fatto più comodo di pane, veramente, nel vero senso della parola, a questa Juventus. Oh, ragazzi, mondiale per club, Inter e Juventus, mamma mia, il Napoli beffato dal Barcellona, anche se, diciamo la verità, io avevo poca paura che il Napoli potesse passare, perché nonostante il Barcellona non sia più quel Barcellona, ma andare lì al Camp Nou è tutta un'altra storia, cioè potevano giocare con le 11 riserve, con gli 11 in tribuna, ma lì è un clima completamente diverso, è come il Napoli ha overperformato contro il Barcellona, ovviamente facendoli giocare pochissimo nel loro stadio, al Maradona, poi Barcellona, ragazzi, decimato dalle assenze, è decimato dalle assenze, qui il ragazzino, qui il ragazzino, ragazzine anche 17 anni, Yamal, come si chiama? Fai paneo, fai paneo, ecco, quelli dovrebbero, queste dovrebbero essere partite che dovrebbe guardare Massimiliano Allegri per prendere spunto di come si utilizzano i giovani, di quando, di come, perché. È vero che il Barcellona ha fatto di necessità virtù, perché non avrebbe giocato probabilmente con tutti i titolari del Barcellona, ma ce lo vedete voi Allegri e vi faceva esordire un Cana Nildiz, anche se era costretto, quasi ammettilo, in una partita così importante di Champions League, al ritorno di un ottavo di finale dopo un pareggio 1-1, io la vedo molto difficile, la vedo molto difficile perché ci vogliono le palle per mettere un giocatore ancora neanche 17enne in una partita del genere in cui il Barcellona poteva andare fuori da un momento ad altro. Il ragazzo ha retto la pressione, ha avuto la fiducia dell'allenatore e continuava a cercare lo specchio. Peccato non sia arrivato il suo gol perché sarebbe stato un record, il più giovane giocatore a segnare in Champions League, il record lo detiene ovviamente il suo predecessore, Ansu Fati, e se lo tiene ancora lui, però ragazzi tanta tanta roba. Allegri avrebbe schierato, boh, avrebbe preso forse un massaggiatore prima di mettere un 17enne, neanche 17enne, in campo titolare in una partita del genere. Fidatevi di un grullo, fidatevi veramente di un grullo. Oh, Napoli, ci si vede in campionato, che tanto dai, in campionato vi sto nemmeno a sfottere, l'anno scorso vi ci avete sfottuto voi, quest'anno è che vi devo sfottere, è come si parla sulla roce rossa, ma noi non siamo certo messi meglio a Giosi, anche perso l'ultima, quindi sto zitto, ma fatemi esultare per questo raggiungimento del Mondiale per Club, ragazzi, fino alla fine Forza Juve e ci vediamo nel prossimo video domani. Mi raccomando, iscrizione, like, condivisione, commenti, attivate la campanella per non rimanere a giornale, quindi per rimanere a giornale. Ciao a tutti!